E' stata aperta la rianimazione Covid all'ospedale Sant'Elia, al quarto piano, al momento ricoverata una paziente di 26 anni. 8 in tutto i posti disponibili, organizzati i turni degli infermieri che dovranno essere per il momento spostati da altri reparti. In attesa dell'arrivo di tutti e 37 quelli che hanno dato disponibilità, infatti in totale qualche giorno addietro hanno firmato 15, 12 dei quali sono stati impegnati a Caltanissette e 3 saranno a Gela. Numerosi sono stati i trasferimenti da Caltanissette a Enne, Ribera, Gela e Catania dei pazienti necessitanti della terapia intensiva Covid, 15 in tutto, da agosto ad oggi. In realtà in Palazzina B, malattie infettive già da tempo, è stata attivata una semi-intensiva con la NIV, il sistema ventilatorio meccanico e altri strumenti necessari per chi non può respirare completamente in autonomia. Adesso servirà anche il personale d'orio per far funzionare il reparto.